salve a tutti amici e amiche il video di oggi mi è stato proposto nei commenti qualche tempo fa quindi eccomi qui e oggi parleremo dei super mega iper progetti segreti di hitler le armi segreti del nazismo ieri mega iper super se le super armi segrete del nazismo ieri mega iper super segreti del terzo reich ma i tedeschi avevano catturato un ufo e avevano tecnologie super avanzate no sì forse ok ora avete capito l'ironia e spero che il video non mi venga demonetizzato per i termini che ho usato me la sto prendendo chiaramente con la quantità infinita di documentari e riviste predatorie che circolano da anni e che ci propongono sempre una versione della storia un poco esagerata è abbastanza diversa dalla realtà quindi oggi farò una carrellata di quelli che sono stati i progetti più avveneristici della germania della seconda guerra mondiale questo argomento come ho detto mi è stato proposto tempo fa quindi anche oggi se avete proposte richieste domande potete postarle qui sotto come sempre prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale quando si parla di queste tecnologie la prima cosa che bisogna dire è che tutti questi miti hanno un solido fondamento è un fatto storico infatti che sia gli americani che i russi misero le mani sui progetti e i prototipi tedeschi con l'avanzamento sul territorio conquistato ed è assolutamente vero che molti di questi progetti poi hanno influenzato ampiamente le tecnologie del ventesimo secolo quindi oggi cercherò di fare una carrellata di queste tecnologie e anche di sfatare qualche falso mito fra i progetti più significativi ce ne sono essenzialmente due il motore a getto junkers jumo 004 equipaggiato sui messi smith 262 e diversi altri aeroplani che diede un'enorme spinta al progresso di questi motori in realtà l'invenzione del motore a reazione non è tedesca ma francese infatti maxime guillarm nel 21 1921 depositava il primo brevetto riguardante la costruzione di un motore a getto il suo brevetto però non divenne mai un progetto concreto perché all'epoca mancavano le tecniche di costruzione per realizzarlo così in inghilterra frank wheatle un ingegnere nel 1930 brevettava un sistema propulsivo basato su un compressore centrifugo che nel 1937 si trasformava nel primo turboreattore funzionante nel frattempo però in germania hans von hoheim grazie anche all'interesse di ernest henkel ricordiamoci il suo nome che sarà importante già ad agosto del 39 installava il suo propulsore su un henkel 178 e così inaugurava l'era del motore a reazione così nel 1941 avveniva il primo volo del me 262 gli aspetti migliori del motore jumo 004 tedesco consistevano nel fatto che essendo più lungo e più sottile offriva minore resistenza aerodinamica e nel complesso generava una spinta di 750 kg gli americani furono impressionati dalle prestazioni del me 262 che di fatto è stato il primo caccia a reazione operativo della storia i racconti dei piloti delle fortezze volanti e dei caccia di scorta parlavano di qualcosa di mai visto prima un aereo che poteva andare e venire a proprio piacimento e a parte qualche episodio in cui i piloti di mustang e tempest inglesi riuscivano a inseguire i piloti tedeschi e colpirli in atterraggio il me 262 era imprendibile ma velocità a parte il me 262 non era un aereo perfetto i motori erano estremamente delicati e tendevano ad andare in stallo e ovviamente potevano anche incendiarsi bastavano pochissimi colpi per metterli fuori uso un'altra caratteristica pericolosa del me 262 era la sua eccessiva velocità gli studi sul volo supersonico infatti non erano ancora stati fatti di conseguenza se in picchiata il pilota superava il mac l'aereo aveva la pessima abitudine di piegarsi e diventare ingovernabile esistono pochissimi casi in cui i piloti tedeschi sono riusciti a sopravvivere al passaggio transonico per raccontarlo ma è un fatto che il me 262 fu il primo aereo supersonico della storia anche se questo record non è mai stato certificato non si può dire che il me 262 e il suo motore abbia abbia influenzato la tecnologia dell'occidente almeno non direttamente perché appunto nel frattempo in inghilterra si andava avanti e la ross royce presto diventerà un colosso nella progettazione dei turbogetti mentre però in russia in realtà il motore jumo 004 e la sua versione aggiornata a bmw veniva utilizzato sul mig 9 il primo caccia a reazione russo e quindi i russi utilizzarono la tecnologia tedesca per i loro primi motori a reazione questo fino al 1946 quando il governo inglese regalò un motore ross royce nene rb 41 all'ambasciatore russo dopo averlo perso a una scommessa a biliardo permettendo così ai russi ingegneria inversa che li porterà allo sviluppo del mig 15 che si dimostrerà veramente poco amichevole con gli americani nella guerra di corea di lì a poco ma per restare sul tema tedesco continuiamo con la storia dei motori a reazione versioni aggiornate di questi motori durante la guerra vendono installate su altri aerei a reazione di serie dopo il me 262 il più importante fu la rado ar 234 il primo bombardiere a reazione della storia questo grosso bi reattore aveva soluzioni davvero futuristiche per il suo tempo i motori non erano così potenti da permettergli sufficiente spinta per il decollo per cui in genere venivano usati dei razzi ausiliari ma una volta in volo accelerando il bombardiere raggiungeva velocità nell'ordine dei 750 chilometri orari quindi anche lui era imprendibile per qualsiasi aereo elica dell'epoca poteva portare fino a 1500 bombe scusate 1500 chilogrammi di bombe con un sistema di dipuntamento sofisticato e una torretta di coda a controllo remoto ne furono costruiti 224 esemplari con varianti specializzate nel ruolo di ricognizione bombardamento l'aereo fu avvistato dai velivoli alleati e risultano fra l'altro avvistamenti anche in italia nel periodo e adesso parliamo dell'enche 162 jet monoreattore dalla forma insolita che non capisco perché nei documentari che ho citato prima non viene mai minimamente considerato anzi spesso viene bistrattato con frasi del tipo che era brutto oppure costruito in legno e colla faccio presente che questi tre eri che ho menzionato furono gli unici jet tedeschi a entrare in produzione e che ebbero anche un ruolo operativo l'enshell 162 o anche il meglio è il più importante in questa lista e anche il più avanzato se vogliamo dal 44 al 45 ebbe il suo breve periodo di storia operativa con una agilità sorprendente e i suoi 840 chilometri orari veniva descritto dai piloti come il miglior progetto in assoluto soprattutto se comparato al me 262 questo aereo fu testato anche dai francesi nel dopoguerra e ne parlerò fra poco e anche dagli inglesi con giudizi molto positivi la struttura in legno permetteva elasticità e minori costi di produzione in un tempo in cui in germania si era accorto di materiali soprattutto mentre le fabbriche venivano bombardate ogni giorno quindi l'enche 162 era un aereo facile da costruire leggerissimo e armato con cannoni fino a 30 mm incredibilmente veloce e pensato per essere un intercettore quindi se non vi si è accesa una lampadina adesso sappiate che la squadra di ingegneri enkel tedeschi nel dopoguerra finirà poi a lavorare in francia per ad assault che realizzerà da lì a poco nel 1953 il primo mirage quindi un piccolo aereo facile da costruire robusto pensato per essere un intercettore molti non lo sanno ma l'idea alla base dell'enkel 162 è di fatto l'origine del mirage che poi ha ispirato la costruzione di aerei come l'f 104 l'f 16 il griffen tanto per citarne alcuni un'idea di aereo semplice versatile e veloce bene questi sono stati tre progetti usciti dallo stadio di prototipo e entrate di fatto in produzione e che hanno avuto una storia operativa ma come tutti sanno di prototipi e progetti la germania nera piena molti simulacri furono trovati nelle fabbriche semidistrutte o abbandonati nei campi di collaudo i progetti su carta vennero trafugati e portati direttamente negli stati uniti o in unione sovietica qui la lista è veramente lunga perciò ho deciso di prendere giusto quelli più significativi e che hanno avuto un qualche impatto poi sugli sviluppi delle tecnologie future partiamo dal tutala orten go 229 le specifiche che produssero questo famosissimo tutala famoso almeno nelle riviste e nei documentari di cui ho parlato prima in realtà queste specifiche erano le stesse per tutti gli altri aerei la germania era disperatamente alla ricerca di caccia intercettori economici che non consumassero carburante oppure di caccia bombardieri oppure entrambe le cose gli studi sul tutala non sono nati in germania quindi per chi mi sta seguendo sappiate che il go 229 non è il padre dei caccia stelta americani tanto meno del b2 spirit l'unica cosa in comune fra il b2 americano e il go 229 sono che entrambi sono tutala ma come dire anche una scimmia ha due braccia e due gambe ma non la rende umana i primi studi su un aereo tutala risaliva una progettista hugo junkers nel 1910 il vantaggio di questa soluzione non era nel fatto che fosse stelt piuttosto nella semplicità di costruzione maggiore capacità di carico e riduzione della resistenza aerodinamica tutto questo a discapito della manovrabilità e quindi nelle idee di junker inizialmente c'era l'intenzione di costruire un aereo passeggeri arrivò a progettare un aereo passeggeri tutala in grado di trasportare fino a mille passeggeri ma all'epoca la germania uscita sconfitta dalla prima guerra mondiale aveva dei limiti nella costruzione di aeroplani e quindi i suoi progetti furono accantonati però ecco oggi esistono diverse valutazioni su ritornare a quelle soluzioni per gli aerei di linea perché appunto rispetto ai normali aerei di linea tradizionali il tutala continua a offrire molti vantaggi le idee di junkers poi come avviene spesso nella storia umana si accendevano nella testa anche di altri contemporanei in tutto il mondo e per esempio in america la northrop con l'n1 mm nel 41 realizzava il suo aereo sperimentale che appunto è il vero padre degli studi sul tutala moderni americani ma in germania durante la guerra junkers continuò a sognare il suo aereo tutala e questo lo portò a progettare e realizzare il prototipo del go 229 spinto da due famosi giumo 004 doveva essere un caccia monoposto armato con due cannoncini da 30 mm e dalla grande autonomia e tangenza operativa il cui unico scopo come la stragrande maggioranza di questi progetti era appunto di salire in quota e abbattere i bombardieri nemici all'epoca poi non esistevano computer e fly by wire per cui la soluzione tutala era molto semplice sulla carta ma nella pratica era tutta un'altra storia questo perché su un aereo senza stabilizzatori verticali timoni e derive le uniche due superfici di controllo dovevano lavorare su tutti e tre gli assi in ogni caso nel marzo 1944 si arrivò al primo prototipo un aliante senza motore che si dimostrò valido con dei pareri positivi da parte dei collaudatori a dicembre venivano installati i motori perché il bmw 003 non era disponibile dati dato il numero veramente esiguo di unità vennero fatti diversi voli di prova fra il 2 e il 18 febbraio quando uno dei due motori prese fuoco e il pilota cercò di spegnere l'incendio con delle picchiate ma probabilmente i fumi del motore lo fecero svenire e l'aereo si schiantò il pilota collaudatore morì due settimane dopo a seguito delle ferite riportate nonostante questo incidente il progetto continuò e venne incluso nel juggernaut program che era appunto la richiesta del governo tedesco per ricaccia di emergenza perché l'esercito americano aveva superato il fiume reno e nell'aprile del 45 gli alleati entrarono in fabbrica così la terza armata di george patton mise le mani sui quattro prototipi realizzati di cui uno solo in realtà era nella fase finale di assemblaggio questo aereo fu valutato poi in inghilterra ma si capì che gli alloggiamenti dei motori non erano compatibili con i motori ross royce a centrifuga coassiale inglese il mito dell'invisibilità horten remar horten il secondo dei due fratelli dopo la guerra emigrò in argentina dove continuò a sviluppare aerei in un'intervista nel 1983 dichiarò che mentre lavorava sul tutala il go 229 negli ultimi giorni di guerra aveva pensato di inserire polvere di carbone nella colla per il legno con lo scopo di fare assorbire le onde elettromagnetiche che secondo lui avrebbero ridotto la possibilità di essere visto dal radar inglese questo trattamento però non fu mai realizzato sull'aeroplano nel 2008 un team di ingegneri della northrop grumman ha effettuato poi dei test elettromagnetici sulla sezione frontale del prototipo recuperato concludendo che per via delle prese d'aria dei motori giumo e della forma della sezione frontale in generale l'aereo non presentava alcuna riduzione della propria radar cross section la sezione radar equivalente questi studi però continuarono per un po finanziati dai programmi televisivi e documentari che volevano dimostrare a tutti i costi che il go 229 fosse stato il primo caccia stealth della storia fu realizzata anche una riproduzione simile al modello originale e testata contro antenne radar con lunghezze d'onda simili e caratteristiche simili a quelle del tempo e quindi il risultato fu abbastanza ovvio che il go 229 con la sua linea pulita e l'assenza di superfici verticali non aveva il grosso motore frontale e il disco dell'elica come tutti caccia a elica del tempo e quindi si aveva diciamo una traccia radar più piccola di un bf 109 però questo era ovvio quindi i motivi poi per cui horten realizzò questo aeroplano come ho detto prima non erano per ottenere l'invisibilità radar le specifiche erano sempre per un aereo economico dalla grande tangenza operativa e autonomia quindi passiamo avanti arriviamo ora alle star di questo video chiedo scusa in realtà perché i progetti sono tantissimi non posso menzionarli tutti per non tirarla troppo per le lunghe quindi ho fatto una sintesi il penultimo aereo progetto avanzato della dubwaffe fu il messerschmitt 163 questo è stato il primo aereo caccia militare a razzo con un impiego operativo la specifica per la sua costruzione era sempre la stessa qualcosa che decollasse all'istante arrivasse ad altissima quota e potesse attaccare i bombardieri nemici negli ultimi mesi della guerra i tedeschi non pensavano d'altro gli studi su questo aereo hanno avuto implicazioni poi nel dopoguerra dato che proprio dal messerschmitt 163 gli americani svilupperanno l'x1 il loro primo aereo supersonico sempre a razzo su questo aereo ci vorrei dedicare un video intero a parte quindi sintetizzo un poco perché poi personalmente ho avuto modo di vederlo anche dal vivo a gato presso il museo della dubwaffe in germania e vi posso garantire che a vederlo dal vivo è veramente piccolo minuscolo fate conto che come alla grandezza di una vecchia 500 con le ali come dimensioni ed era ovviamente niente di lontanamente simile a quello che era stato progettato fino ad allora per addestrarsi al suo volo i piloti passavano ad una formazione su alianti con ali sempre più piccole e alla fine la velocità di atterraggio di questo aereo era elevatissima quindi per questo si addestravano progressivamente per l'atterraggio poi non aveva neanche le ruote il carrello si sganciava al momento dell'atterraggio e per atterrare doveva farlo su un pattino metallico che spesso non funzionava e in moltissimi casi i piloti riportarono le fratture alle vertebre ma il decollo il decollo era una cosa assurda il me 163 è stato il primo aereo nella storia ad avere un rapporto spinta peso equivalente il che gli permetteva salite mostruose in candela permettendogli di raggiungere la stratosfera dopo che il motore finiva il carburante poteva planare sulle formazioni di bombardieri nemiche l'impiego di questi aeroplani fu uno shock per i piloti alleati che non avevano visto niente di simile al confronto il me 262 sembrava un aereo convenzionale e se da una parte le prestazioni del 163 erano assurde e brillanti i rischi del suo utilizzo parlavano chiaro il motore era un semplice tubo metallico con una pompa e utilizzava due carburanti idrazina idrata in metanolo e perossido di idrogeno concentrato che si accendevano violentemente se combinati con un catalizzatore che era appunto il tubo metallico questi dovevano stare in due serbatoi ben separati e perfettamente stagni l'idrazina idrata è tipo una delle sostanze più pericolose sul pianeta aveva la pessima attitudine di sciogliere qualsiasi cosa incontrasse sul suo cammino compresa la pelle dei piloti quindi diciamo che su questo discorso forse è meglio passare oltre e non addentrarsi per evitare di finire di parlare di zombie e horror ecco ma in rete comunque sul me 163 si trovano tanti documentari ben fatti che ve li consiglio con soprattutto vi consiglio soprattutto quello con anna reich pilota collaudatrice questo progetto di posa coda nasceva sempre per le solite specifiche ma ancora più spinte cioè un aereo in grado di decollare da un campo una piazza il ponte di un mercantile e difendere lo spazio aereo dai bombardieri nemici nasceva così il concetto di aereo a decollo verticale che poi verrà ripreso in più fasi negli anni successivi da aerei sperimentali come il conveyor xf y pogo e lockheed xf v e lo snack ma cleopatra poi per fortuna anche in america si renderanno conto dell'assurdità del posa coda e decideranno di orientare il flusso del motore con una geometria variabile che comporterà così allo sviluppo dell'arrier e oggi lo vediamo sull'f35 ma è davvero finito il tempo dei posa coda non credo almeno andatelo a dire a elon musk e quindi l'erch era un aereo particolarissimo pensato come un aereo a pistoni con un'elica intubata che doveva decollare verticalmente fare una transazione al volo orizzontale salire in quota attaccare bombardieri e poi tornare per atterrare facendo un'ulteriore transazione su questo sulla coda e aveva questo carrellino che sembrava quello della spesa il problema è che non poteva mai diventare un aereo non poteva mai svilupparsi in fase di prototipo perché all'epoca i motori a pistoni non potevano sviluppare potenze sufficienti per far sollevare un aeroplano quindi si dovrà aspettare il dopoguerra gli anni 60 per vedere lo sviluppo dei turbo elica che daranno almeno quelle spinte necessarie quindi il l'erch non passò mai a una fase concreta ma rimase solo sulla carta e quindi questo è quanto diciamo che per concludere il vero progetto tedesco che poi ha cambiato radicalmente la storia sicuramente è la v2 questo missile balistico che nel 44 superava mach 5 e che lo classificherebbe come velocità almeno come ipersonico e questo missile ha spienato la strada per l'esplorazione spaziale senza von brown e il suo team di scienziati presi dalla germania e trasferiti alla nasa non avremmo avuto il programma gemini prima e l'apollo poi quindi il saturn che ha mandato gli uomini sulla luna non è altro che un'evoluzione della v2 tedesca fra l'altro è curioso notare come lo stesso von brown nei suoi progetti iniziali pensava proprio a dei posa coda non molto diversi da quelli che vediamo oggi rientrare dallo spazio della space x ovviamente però non dobbiamo confondere le cose cioè senza microprocessori giroscopi miniaturizzati e l'enorme progresso nello studio dei materiali degli ultimi vent'anni i progetti dei pionieri di allora non sarebbero mai potuti essere realizzati e quindi questo è quanto spero che il video vi sia piaciuto fatemi sapere nei commenti come sempre un abbraccio alla prossima